Lukman strepitoso nelle qualificazioni di Coppa d'Africa. Ho avuto modo di rivedere Nigeria Benin e ho visto un Lukman stratosferico doppietta per lui e un primo gol veramente veramente clamoroso. Lukman oggi è un giocatore che si porta dietro delle pressioni incredibili perché è un po' il giocatore velina della Nigeria avendo vinto l'Europa League con quella tripletta comunque è investito di una certa responsabilità da un continente intero. Ricordiamo che Lukman ha buonissime probabilità di diventare pallone d'oro africano e per un continente come l'Africa questa cosa ha un peso specifico non indifferente e poi ha avuto tutta una serie chiaramente di pressioni legate al fatto che è anche all'interno dei 30 per il pallone d'oro e alle vicissitudini avute con l'Atalanta questa estate. Quindi è un giocatore che oggi si suol dire è in hype cioè è fonte di discussioni di analisi di riflessioni e attira mediaticamente moltissimo l'interesse delle persone e non è una cosa facilissima da gestire sia ben chiaro magari per un giocatore che fino a un anno fa sì buon giocatore per noi un giocatore importante però con un eco mediatico decisamente minore. Alla luce di questo io credo che sia ora di ignorare l'elefante di smetterla di ignorare l'elefante nella stanza cioè la problematica di Lukman legata all'Atalanta e buttarci tutto alle spalle perché l'Atalanta ha bisogno di Lukman e perché Lukman oggi ha bisogno dell'Atalanta perché l'Atalanta gli può dare la possibilità di migliorare i propri risultati di confermare il suo standing pubblico di raggiungere magari nuovi risultati ed è un binomio che con il rinnovo contrattuale che c'è stato sicuramente bisogna rinsaldarlo ma porta benefici a tutti. noi abbiamo un po' oscurato Lukman anche nelle critiche all'Atalanta nelle prime tre partite si è cercato di non citare il fatto che gli mancasse un giocatore di quel tipo lì ci si è preferiti soffermare sull'assenza di Scamacca, sull'assenza di Scalvini perché la situazione non era chiara a dire il vero non è chiara neanche oggi l'Atalanta tendenzialmente non spiega nulla e fa parlare il campo Gasperini quindi è normale che tutti siano rimasti un po' in un limbo e come reazione a questa cosa abbiamo cercato di allontanare il concetto. Oggi però con un rinnovo importante, con un'iscrizione alle liste e con le prestazioni fatte Lukman deve tornare al centro dei nostri ragionamenti e dei nostri argomenti. ora io non voglio raccontare favole, è evidente che il comportamento avuto dal giocatore tutto o meno quello che viene raccontato sia vero o non vero è ovvio che ha delle implicazioni nei rapporti umani con le persone è ovvio che genera sul posto di lavoro delle implicazioni per il giocatore che si lamenta perché non ha avuto il rinnovo e lui lo prende è normale, sono dinamiche che fanno parte di qualsiasi luogo lavorativo e che non ci devono spaventare perché a noi deve restare la parte bella del racconto del calcio, ci sono persone pagate per gestire le parti meno divertenti e sono assolutamente convinto che riusciranno anche lì a ovviare a qualsiasi tipologia di problema. ci siamo lasciati con la sconfitta con l'Inter, con Gasperini che diceva bisogna recuperare l'entusiasmo, bisogna recuperare la compattezza, bisogna recuperare il gruppo io penso che Lukman sia la scintilla che può fare, ripartire tutto un po' perché, parliamoci chiaro, qualitativamente in Serie A è uno dei giocatori più forti che ci sono numeri alla mano, dati alla mano, perché poi sulla carta ci sono mille fenomeni ma poi triplette delle finali di Europa lì non le fa nessun altro quindi è un giocatore che sposta gli equilibri un giocatore che ti può far vincere le partite da solo un giocatore che ti porta una sfracca di punti da solo e le vittorie, i successi, comunque fanno sempre squadra fanno sempre buon umore, rinsaldano gli animi è una cosa scontata ma non c'è miglior modo per rinsaldare una squadra che tornare a vincere e a giocare in un certo modo lo rivedremo subito per me sì lui adesso deve giocare, non mi ricordo più, se il 10 o l'11 con il Ruanda però poi torna e ripeto, oggi si sarà allenato poco con i compagni ma non si è mai allenato totalmente da solo non so se lo vedremo magari uno scampolo di partita oppure lo vedremo dall'inizio io personalmente lo faccio partire dall'inizio non mi pongo neanche il problema però bisogna poi gestire l'affaticamento muscolare tutte quelle cose lì però credo che veramente un ampio spazio durante la partita con la Fiorentina ce l'avrà partita che diventi importante perché dobbiamo recuperare terreno e perché si torna finalmente a giocare a Gevis e per quanto io sia uno di quelli convinti che lo stadio non sposta il pallone il pallone è fermo in campo sono i giocatori che lo spostano è innegabile che nella testa, nella grinta, nella determinazione, nell'agonismo avere uno stadio di un certo tipo che ti spinge ha il suo ha il suo impatto io prima di fare questo video ho voluto fare anche un'ultima verifica che è una verifica stupida se ci pensate però oggi il mondo va così cioè sono andato a vedere nei vari mille, mille post che la nazionale nigeriana, il giocatore, hanno fatto su Lukman se ci fossero apprezzamenti o sostegni da parte del gioco dell'Atalanta hanno trovati moltissimi segno che comunque gran parte di quegli attriti che poi come al solito magari vengono ingigantiti dai racconti sono rientrati e la cosa mi ha fatto veramente piacere io penso davvero che con Lukman si possa in un qualche modo ripartire non sarà solo Lukman ovviamente a darci una mano Reteghi ha fatto una bellissima partita con la Francia vedremo Kusunu ritorna a Ien potrebbe tornare con l'Asinac Deron potrebbe tornare a centrocampo cioè ci sono tante situazioni che adesso rientrano però è innegabile che da qua si può iniziare a scrivere un nuovo capitolo c'è stato questo preludio che non è stato fantastico ma da adesso bisogna iniziare a farlo sul serio e io credo che per farlo sul serio sia determinante avere ad Emola al cento per cento con noi fatemi sapere un po' anche voi come avete letto la situazione che cosa vi aspettate ripeto qua non è in discussione l'utilizzo meno del giocatore è stato inserito nelle liste ci mancherebbe altro ma voi pensate che verrà subito riempiegato nonostante magari si sia allenato poco con i compagni nelle ultime settimane oppure ci sarà un momento d'attesa un dosaggio all'inizio ci tengo a precisarlo perché magari uno poi fraintende e pensa che ci siano anche degli estremi per non vederlo in campo no assolutamente la domanda è lo rivediamo subito dall'inizio come li dovrebbe aspettare oppure per affaticamento per situazioni varie ci sarà un inserimento più graduale fatemelo sapere nei commenti io vi leggo sempre vi rispondo comunque sono molto attento a quello che scrivete e siete parte integrante del mio canale vi ringrazio tantissimo per il sostegno tutti i riferimenti sono in descrizione ci vediamo nel prossimo video ciao ciao